Questa volta il nostro gruppo dei ragazzi e tutti insieme vi balano un jive! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 E possiamo ringraziarmi! Ecco i due ragazzi! Vincola, prima da Eugenica! Matteo, Aurora, Lisa, Jessica, Sabrina, D'Apriccio, Gisette, Elisa, Marica, Giulia, Linda, Alice! Vi ritroviamo più tardi ancora le danze classiche. Questa sera per voi, Paolo e Anita! Reduci dei campionati regionali fatti a Biela. Sono ottimi classifici. Tutto per voi, tango! Grazie! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti per voi, Marco e Gessica. Vi sono accompagnati al tempo di musica con le mani tutti insieme, io sono Marco e Gessica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Prego, in pista! Grazie a tutti. 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 Grazie.